anche quest'anno stiamo organizzando il tuffa al mare only the brave solo gli impavidi è il quarto anno ci tengo a ricordarlo e siamo felici perché è un momento di conviviale e anche non solo gogliardico il tuffo va letto anche sotto un'altra forma va letto come una sorta di rinascita uno si tuffa in mare per rinascere anno nuovo nuovi propositi il motto di quest'anno che lega questa manifestazione è che le scelte più dure e difficili sono quelle premiati quindi scegliete di fare un tuffo che magari sembra una piccola pazzia ma in realtà vedrete che sarete premiati durante l'anno colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale che ci dà sempre il sostegno con il patrocino poi ringrazio inoltre tutti i miei collaboratori a partire da giovanni viaggini detto baffino più conosciuto come baffino giovanni boa stabilimento bannare il gabbiano che da sempre accreditato a questa iniziativa e di tutti i tuffatori perché loro sono veramente eccezionali sono delle persone che si tuffano semplicemente per stare insieme e anche per fare un po di solidarietà perché anche quest'anno faremo la solidarietà probabilmente verranno indirizzate il piccolo contributo che riusciamo a ricavare da questa manifestazione alle famiglie bisognose di montato tramite l'assessorato alle politiche sociali e all'assistente sociale che si occupa di di questo grazie a tutti e ci il primo dell'anno Grazie a tutti Grazie a tutti